allora benvenuti oggi parliamo dell'estetica del linguaggio e della forma della forma dei linguaggi perché oggi l'affermazione il principio che ci guida è la forma è più importante del contenuto dunque noi ce ne occupiamo proprio perché oggi questa affermazione determina il successo determina l'attrazione quindi la componente di piacere che gli oggetti che noi produciamo i contenuti che noi produciamo esercitano sul pubblico e questo pubblico ovviamente può essere un classico pubblico inteso in termini di marketing e piuttosto che gli studenti della vostra classe e i vostri colleghi quindi la forma è più importante del contenuto dicevo che una volta questa affermazione avrebbe fatto inorridire molte persone perché i contenuti naturalmente sono l'aspetto più importante della comunicazione di tutto ciò che si vuole raccontare divulgare se non c'è un contenuto che cosa che cosa vuoi vuoi trasmettere trasmetterai qualche cosa di effimero qualche cosa di inconsistente certo però quello che noi dobbiamo capire è che oggi la molteplicità di canali la molteplicità di mezzi di comunicazione la molteplicità di media il fatto che tutto questo si intersechi si intersecano i canali si intersecano in media tra di loro dando origine a forme continue di comunicazione e narrazione determina sempre di più il fatto che al primo posto oggi nella scelta di un soggetto c'è l'aspetto estetico cioè il modo la forma che il contenuto riveste d'altra parte un tempo non troppo lontano i contenuti erano scarsi e questi contenuti erano nelle mani di poche persone un vostro studente aveva due possibilità per trovare dei contenuti appropriati chiedere direttamente a voi o consultare un libro di testo poi certo c'erano le biblioteche i centri di ricerca ma insomma un ragazzino doveva prendere gambe in spalla andare a cercare in una grande città una biblioteca fornita eccetera eccetera non era certamente agevole i contenuti erano pochi nel senso pochi a disposizione del pubblico anche se la loro mole era enorme chiaramente e poche erano le persone i luoghi le istituzioni che li potevano distribuire quindi andare alla caccia dei contenuti richiedeva tempo e questo tempo non poteva essere aumentato per trovare anche una forma adeguata a quei contenuti di cui avevamo bisogno ci interessava arrivare immediatamente all'oggetto di interesse cioè il contenuto stesso questa situazione non esiste più non esiste più ed è completamente cambiata oggi il pubblico i vostri studenti voi stessi chiunque è bombardato da uno stesso contenuto lo stesso identico contenuto è bombardato lo trova in cinquantamila modi diversi lo trova in tutte le lingue possibili e immaginabili dunque non può vivere all'interno di questo bombardamento non può deve trovare delle strategie di sopravvivenza cioè deve imparare a discernere rapidamente i contenuti di suo interesse non può studiare ciascun contenuto prima di capire quale può essere quello che gli può servire e qui entrano in gioco le regole dell'estetica perché perché tutto si gioca lì tutto si gioca sulla bellezza di quello che tu cerchi cioè si gioca sul modo con il quale il contenuto viene veicolato che è la prima cosa che balza agli occhi e dunque se questo modo è equilibrato piacevole interessante esteticamente studiato e naturalmente attira la vostra attenzione naturalmente questa operazione è fatta anche per ingannare sui contenuti questo è evidente le operazioni di marketing di business economico cercano sempre di presentare le cose meglio di quello che in realtà sono a loro diciamo a un'indagine più approfondita però questa è la realtà che noi viviamo a parità di lezione a parità di contenuto lo stesso identico contenuto che voi eh trasmettete o sul quale lavorate in classe il vostro successo dipende non dal contenuto ma dal modo con cui voi lavorate dal modo con cui lo presentate da come vi ponete da come parlate da come vi esprimete dai colori che scegliete per rappresentarlo dalla coerenza del vostro linguaggio dalla riconoscibilità di un linguaggio studiato affinché questo contenuto possa essere veicolato con piacere il piacere è una componente indispensabile del contenuto stesso quale che esso sia non è possibile in una società che è orientata al piacere estetico ignorare questo dato quando siamo a scuola la scuola deve fornire anche un piacere estetico deve fornire anche un godimento di ciò che si fa dei contenuti che si affrontano se questo godimento se questo piacere non ci sono eh viene rimesso in causa l'apprendimento l'estetica il modo la forma diventano un oggetto imprescindibile dei contenuti di cui ci dobbiamo occupare questa è la novità ed è una novità alla quale nessuno di noi può sfuggire perché eh più si moltiplicano i canali più si moltiplicano le opportunità e più ovviamente il pubblico cioè vale a dire i vostri stessi studenti sono condizionati dagli effetti formali che i contenuti presentano ma per estetica intendiamo proprio la forma il modo il modo con cui si opera e da questo modo si deve poter capire che c'è un fuoco vitale c'è un demone che vi governa c'è una passione c'è qualche cosa che va al di là del semplice creo un prodotto creo un prodotto e lo trasmetto creo un prodotto di insegnamento creo un paio di scarpe creo una torta quello che volete ma creo un prodotto ecco è la differenza che c'è tra il creare un prodotto e il diffonderlo se permettete mi lasciate cinque minuti io vi racconto un mito greco vi va di sentire questo mito che è una buona metafora che voi potete utilizzare anche coi vostri studenti e che sicuramente vi fa riflettere vi racconto la storia potete prendere una tisana camomilla due biscottini mettere lì la copertina e ascoltare siamo nell'antica grecia precisamente in tessaglia in tessaglia viveva la più grande tessitrice di tutta l'antichità questa tessitrice si chiamava aracne e tesseva delle tele fantastiche piene di ricami disegni e significati un giorno aracne disse che le sue tele la sua tessitura era migliore di quella di atena che era la dea delle arti e quindi della tessitura anche e dunque si rivolge agli dei affinché venga allestita una sfida tra aracne e la dea atena allora atena si traveste da vecchietta e cerca di parlare con aracne e cerca di dissuadere aracne da questa competizione come può un umano competere con un dio non è qualche cosa di immaginabile benché aracne fosse una grandissima la più grande tessitrice del mondo antico ma aracne aveva la testa dura e quindi non ritorna sui suoi passi e vuole andare fino in fondo quindi gli dei allestiscono questa sfida e sia a atena che aracne producono una tela ora ci sono delle varie versioni del mito chiaramente però quello che a noi interessa è che aracne produce una tela meravigliosa e anche atena con contenuti diversi forme differenti ma sono due grandi tele molto belle due bei risultati eppure gli dei decidono che aracne deve essere punita nonostante avesse compiuto una grande opera e dato che si vantava di essere la più grande tessitrice della tessaglia gli dei stabiliscono che aracne si trasformi in ragno che era una specie a loro sconosciuta quindi crea una nuova specie che appunto quella dei ragni da qui prendo il nome questa specie proprio da aracne che è destinata vedete il contrappasso un po dantesco anche se dante è vissuto dopo ovviamente no e quindi il contrappasso che fa sì che aracne sia costretta a tessere questa tela per tutta la vita ti consideri la più grande tessitrice del mondo antico benissimo passerai la vita a tessere ora qual è il senso di questo mito il senso di questo mito è che a parità di lavoro ipotizziamo a parità di lavoro cioè due splendidi due splendide tele sia quella di atene che quella di aracne qual è la tela migliore la tela migliore per forza quella del dio perché perché il dio è ispirato da una passione mentre aracne è un artigiano questo è il significato simbolico tu puoi produrre anche il miglior lavoro possibile ma l'hai fatto come come dio tra virgolette o come artigiano c'è il demone dentro di te che ti spinge a dov'è il dio dentro di te sempre tra virgolette voglio dire questa è la differenza tra gli dei e come dire i professionisti di artigiani e la differenza è in questa molla che spinge a far sì che nel lavoro di atena ci sia qualche cosa di divino la domanda che noi dobbiamo rivolgerci a noi stessi e ai nostri studenti è molto semplice quindi è questa dov'è il divino che c'è in te dov'è certo uno non può tirare fuori sempre il divino che c'è in lui questo è chiaro e non può puntare ogni singolo istante della sua vita a chissà quale vertice altezza di produzione questo no ma deve esserci una fonte di ispirazione che qua e là si deve poter mostrare il che non vuol dire che tutti i lavori tutti i prodotti debbano essere esteticamente perfetti adeguati eccetera eccetera no però deve essere rintracciabile questa ricerca questa cura questo seme deve emergere e qua e là deve essere anche molto evidente poi non sarà sempre così chiaramente ma questo filo conduttore questo filo rosso questo filo rosso che trasforma racne in atena beh questo filo rosso deve esserci e tutti ce l'hanno tutti hanno la possibilità di tirare fuori qualcosa di buono dalla propria creatività nel momento in cui perdono la ibris questa forma di antagonismo rivalità eccetera che che aveva appunto aracne questa supponenza questo bullismo se vogliamo e perché la creatività marcia di pari passo con l'umiltà e non con un'espressione narcisista della propria considerazione a io sono il migliore tessitore dell'antica grecia della tessalia io ti sfido perché c'è non non è questa la strada della creatività il creativo si concentra sulla sua creazione punto fine guarda all'oggetto della sua passione non solo ma molto spesso il creativo non sa non conosce non riconosce il valore di quello che fa pensate quante volte nella storia dell'arte gli stessi artisti sono stati turlupinati da mercanti d'arte da persino da parenti da amici perché non riconoscevano il valore di quello che facevano e poi la fama poveracci è arrivata quando purtroppo erano già anziani o addirittura erano deceduti perché questo ma perché la creatività ha una componente che porta il soggetto fuori dal mondo lo estranea un po dalla realtà perché lo fa concentrare su una linea di tendenza ecco questo per dire che noi non vogliamo degli insegnanti matti fuori dalla realtà capiscono niente sono dei creativi assoluti perché bisogna insegnare dunque bisogna trasmettere delle conoscenze nel modo nei modi appropriati però queste conoscenze vanno trasmesse qualcuno deve imparare e qualcun altro è preposto a insegnare quindi il lavoro deve arrivare a produrre qualcosa però ecco se questo lavoro è legato a una passione un'ispirazione e quindi a un prodotto estetico a una cura estetica dell'oggetto ecco che noi otteniamo un risultato straordinario cioè catturiamo l'attenzione verso il bello da parte dei nostri studenti e poi affiniamo anche la nostra stessa concezione di bello e non è vero questo ve lo dico poi chiudiamo questa premessa e passiamo quindi a esaminare il nostro la nostra attività ma questa premessa serve perché vi fa capire l'importanza di quello che ci apprestiamo a fare perché altrimenti sembra un gioco un gioco sui colori un gioco sulle forme poi faremo appunto anche un'attività sulle forme fra poco dopo aver esaminato appunto i colori e invece ha un senso ha un senso molto profondo e vi dicevo però che i nostri ragazzi non sono più abituati a riconoscere il bello come valore assoluto e universale ora il bello ha sempre un valore assoluto e universale sempre quando io discuto con loro lo faccio sovente e sono ragazzi di solito eh lavoro con ragazzi grandi quindi diciamo dai diciassetti ai vent'anni grosso modo quindi persone che dovrebbero già avere come dire una concezione in questo campo sempre c'è la diciamo una delle risposte dominanti è che è bello ciò che piace quindi la confusione tra piacere e bellezza attenzione perché è molto pericolosa molto 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 pericolosa come se le due cose fossero disgiunte vi dico solo questo la disgiunzione tra bellezza e piacere porta poi eh i fanatici a pensare che la guerra sia una forma di godimento eh che la distruzione sia una forma di godimento che la sofferenza del genere umano sia una forma di godimento no il piacere e la bellezza fanno parte della stessa eh componente eh poi è vero naturalmente che in campo estetico c'è una componente anche personale che piace questo è indiscutibile però io dico ai miei ragazzi va bene allora caro Mariolino tu stasera inviti a cena la persona tua persona amata maschio femmina quello che vuoi dove vai prendete un hamburger alla McDonald e poi andate alla discarica in periferia per guardare le pantegane che annusano tra i rifiuti i topi e i ratti tutta la sera meraviglioso questo spettacolo o preferisce andare in una trattoria in riva al mare dove senti la risacca e la luna piena manda la la sua proietta la sua striscia fino al vostro tavolino eh però mi devi dire per quale motivo tutti rispondono che nessuno vuole portare il suo amante o la sua amante in una discarica perché in fin dei conti è un prodotto dell'uomo fa parte del paesaggio naturale qual è il problema il problema è che istintivamente riconosciamo che cos'è una cosa bella che cos'è una cosa brutta e quindi che cos'è la bellezza beh è semplice la bellezza è la riproduzione di una forma della natura la natura è bella per definizione perché la nostra natura è la natura nella quale viviamo qualcuno pensa che sia la natura che ci ha offerto Dio qualcuno pensa che sia una natura che si è formata in modo naturale in ogni caso la natura è l'esterno l'espressione della bellezza quindi esiste un valore universale e riconosciuto di bellezza che si trova nelle armonie della natura in matematica abbiamo i frattali in grafica abbiamo la composizione dei colori della musica abbiamo i suoni della natura gli illustratori e pittori hanno le immagini della natura e della natura ben inteso fa parte l'essere umano in quanto animale a pieno titolo esattamente come una gallina una tigre o un pappagallo l'essere umano nudo la sua nudità insieme alla nudità di tutti gli altri animali è espressione diretta della natura e quindi della sua bellezza ed ecco perché possiamo dire che gli esseri umani a ciascuno piace può piacere una certa fisionomia o un'altra ma l'essere umano quale che esso sia porta in sé una bellezza che appartiene all'insieme naturale che è rappresentato appunto dalla natura e dagli esseri viventi che la compongono questa distinzione però cioè questa questo valore però guardate che si sta perdendo e si sta perdendo perché i linguaggi si moltiplicano pur di accalapiare il pubblico questi linguaggi inventano delle forme e delle modalità che in realtà fanno decadere la componente estetica che dovrebbero invece rappresentare detto in altri termini viviamo in un mondo di schifezze schifezze di comunicazione schifezze narrative schifezze a stampa schifezze video schifezze post di facebook internet eccetera palette di colori per entrare il nostro argomento assolutamente improbabili eppure ci abituiamo a vedere colorazioni fonte espressioni improprie brutte una moltiplicità di prodotti copiati uno dall'altro imitazioni e quindi anziché una elevazione noi abbiamo un abbassamento pensate alla differenza di un uomo del rinascimento con un uomo oggi un uomo del rinascimento aveva di fronte a te solo alcuni esempi di comunicazione un fiorentino poteva vedere la bellezza delle architetture degli affreschi basta non aveva altro perché non c'erano altri strumenti di comunicazione che invadevano la sua vita con una caterva di rifiuti dunque era un uomo che facilmente poteva essere elevato al gusto e alla bellezza oggi no fin da quando ti alzi la mattina sei inondato di spazzatura e per vedere per assistere a qualche cosa di meraviglioso beh devi proprio esprimere la volontà di farlo devi acquistare un biglietto ricarti a un concerto organizzare una gita scolastica non è una cosa che capita nell'età comunale nel rinascimento capitava oggi no oggi la devi cercare oggi devi cercare di uscire dalla spazzatura perché sei inondato di spazzatura e per spazzatura intendo io lavoro nel campo per esempio degli influencer lavoro nel campo della comunicazione di brand di imprese eccetera vi dico che questa comunicazione è una fotocopia l'una dell'altra è assolutamente stereotipata le regole sono sempre le stesse qualsiasi agenzia ti propone esattamente sempre le stesse cose anzi sempre a un livello più basso perché il mantra è il pubblico lo deve capire ma siccome il livello culturale si abbassa ovviamente si abbassano le richieste del pubblico e la comunicazione si deve adeguare quindi si deve abbassare si abbassa nel linguaggio si abbassa nella percezione si abbassa nel modo con cui le storie sono costruite si abbassa nella visione della sua componente estetica di colore di suono di forma di armonia eccetera eccetera per voi insegnanti e per me sono insegnante anch'io ovviamente per noi diciamo così questa questione è importante perché noi abbiamo a che fare con delle generazioni nuove generazioni che sono educate a un mondo trattino spazzatura chi può rieducare i giovani al godimento estetico dell'opera della bellezza la bellezza della natura la bellezza dell'opera d'arte o anche non opera d'arte diciamo la bellezza di una cosa ben fatta di una cosa gradevole ecco parliamo senza tirar fuori chissà quale componente sublime parliamo semplicemente di qualche cosa di gradevole accettabile godibile ecco questa è la questione non siamo noi ovviamente i responsabili di questo tipo di educazione ma se possiamo migliorare quella che viene definita la nostra comunicazione il nostro insegnamento facendo meno ma meglio perdendo meno tempo a mettere insieme delle dieci slide ma facciamo una sola grafica bella è meglio ecco perché oggi dobbiamo parlare del vostro stile perché non si può fare questo in modo meccanico cioè per dire prendo delle regole colori complementari e così le regole sono queste metti insieme e faccio così no bisogna capire qual è il vostro stile che cosa vi piace come vi muovete ecco bisogna che ci sia consapevolezza del vostro stile perché tutti hanno uno stile purtroppo questo stile non sempre emerge non sempre lo stile è ciò che governa l'azione dei soggetti adulti figuriamoci poi dei ragazzi chiaramente non sto parlando del fatto che seguono le mode se hanno due euro da spendere li spendono tutti sempre per la marca del momento non è questo questo è un condizionamento ma comunque resta una piccola educazione estetica perché in ogni caso ci sono delle componenti di bellezza in queste operazioni che sono utili da un punto di vista educativo io parlo proprio della comunicazione di massa cioè di quella miriade di miliardi di messaggi di immagini di modi di scrivere di presentare eccetera che invadono il terreno di chiunque oggi questo è il vero problema perché lì lì abbiamo la discarica lì è proprio come portare da proprio ragazzo proprio ragazzo anziché al ristorante al mare e portare a vedere la pantegana è la stessa cosa esagero un po ma è solo perché un po' di estremizzazione ogni tanto aiuta a stabilire una a dividere una realtà tra bianco e nero anche se poi ci sono tutte le sfumature in mezzo però se noi capiamo bene dove è il bianco e dove è il nero poi dopo possiamo anche parlare di sfumature noi siamo per il tramonto al mare penso no perché c'è qualcuno che preferisce le discariche con le pantegane va bene però non è seminario che fa lui direi dunque quando scegliamo un colore cerchiamo di avere come riferimento una grafica di questo genere perché noi magari non lo sappiamo ma il colore trasmette delle sensazioni anche parziali se vogliamo non dominanti però è una componente che sollecita le emozioni le sensazioni che poi il soggetto che osserva riceve in modo sintetico ecco che per esempio questo grafico vi può illustrare come alcune emozioni sono associate a determinati colori ne trovate tanti perché poi ci sono delle differenze delle sfumature magari non tutti sono d'accordo su tutto così per esempio si dice che lo rosso è meglio non utilizzarlo nei messaggi importanti perché è molto affermativo può anche spaventare può anche determinare una situazione trasmettere una situazione di pericolo e quindi allontanare quindi nel momento in cui è vero che il rosso è una fonte di emozione però ci dobbiamo anche chiedere in quale contesto lo utilizziamo se questa emozione poi si trasforma in spavento in repulsione allora noi non otteniamo il messaggio che che desidereremmo già questo per esempio ci fa riflettere sul fatto che siamo abituati a colorare di rosso i titoli degli argomenti di cui trattiamo ecco già una cosa sbagliata per esempio perché il rosso tende ad allontanare non ad avvicinare dunque noi diciamo la riproduzione della cellula mettiamo un bel titolo rosso e poi il testo nero questo nero e questo rosso allontanano le persone non le avvicinano pensate eppure infatti una volta non si segnava forse anche adesso non so non si segnavano in rosso anche i voti più negativi proprio perché si sottolineava la gravità allora come può uno stesso colore essere utilizzato per sottolineare un aspetto negativo e poi invece per presentare il titolo di un argomento che dovrebbe entusiasmare una classe è una contraddizione abbiamo il colore abbiamo i colori analoghi poi colore monocromo cioè la stessa posizione ma ma è una variante all'interno di una stessa tonalità poi triade sono diversi modi di comporre di comporre la stessa palette questa si chiama palette è un insieme di colori si chiama palette composti tonalità o personalizzati rimaniamo sul primo gli analoghi a me si si presenta questa questa palette a voi può darsi che si presenti in modo diverso che cosa posso fare vedete agisco su su queste maniglie sposto e che cambia la composizione dei colori quello che io trovo qui cioè la successione di questi colori è una successione corretta che cosa vuol dire corretta vuol dire che è equilibrata alla vista perché il colore è una trasmissione è una trasmissione di io onde scusate c'è qualcosa che mi dà fastidio sono delle frequenze e quindi il rapporto dei colori è qualcosa che si può risolvere anche in termini matematici e ci sono degli studi molto precisi che stabiliscono quali sono i criteri per accostare i colori fra di loro e quindi offrire una sensazione di equilibrio di piacere vedete tutta la ruota io faccio passo tutta la ruota ma anche se cambio la tonalità non cambia la sensazione di piacere che ho nel osservare questi colori poi posso operare delle variazioni quindi sullo stesso schema posso allontanare o avvicinare quindi che cosa sto facendo sto aggiungendo o togliendo luminosità luce al colore il colore rimane lo stesso in questi casi solo la sua saturazione maggiore o minore qui abbiamo un insieme di colori analoghi se invece voglio operare delle variazioni più più forti posso scegliere i colori complementari che sono i colori dei quali dalla cui combinazione nascono poi tutti gli altri oppure posso scegliere altre forme per esempio evito i complementari che creo qualche cosa che non ha a che fare non ha non ha un vincolo coi colori complementari oppure personalizzo quindi a questo punto posso creare una palette che come vedete già perde di equilibrio questa non è una palette equilibrata perché perché l'ho creata io 84 ff 42 se faccio così copia io copio questo simbolino questo numero che cos'è questo numero questo è il codice si chiama così codice esa decimale del colore ogni colore si caratterizza per un codice esa decimale quindi voi non direte verdolino non so io cos'è questo pisello chiaro voi direte 84 ff 42 e quando utilizzerete un'applicazione grafica anche semplicemente un powerpoint o keynote o anche un'applicazione per scrivere word pages eccetera quando scegliete il colore per un titolo una pagina una grafica così e voi e nella vostra paletta avete il colore 84 ff 42 lo indicherete col suo numero e non scegliendolo dalla palette con il cursore trovando qualche cosa che più o meno gli assomiglia io ho preso questo nel momento in cui carichiamo l'immagine che cosa fa questa applicazione trova le tonalità più rilevanti che compongono l'immagine stessa cioè una sorta di media se vogliamo individua individua quei colori che sono preeminenti e che possono stare bene insieme per combinare una palette che possa rappresentare l'immagine che avete inserito perché vi ho detto prendete una fotografia che vi rappresenti non tanto come contenuto ma proprio come colore perché da qui voi ricavate la palette dei vostri colori ora un insegnante è un marchio è un brand un insegnante è un'azienda un insegnante non un'azienda nel senso che produce vende merci no ma nel senso che tutti gli studenti tutti fin da quando hanno sei anni e fino a che sono in quinta superiore ciannove venti tutti gli studenti distinguono gli insegnanti l'uno dall'altro per il modo con cui si presentano come parlano per come agiscono l'intercalare che usa i tic che l'insegnante ha le abitudini che l'insegnante ha cioè trasforma ogni insegnante in uno stereotipo cioè diciamo che trasforma un insegnante in un brand in un marchio un insegnante è un marchio inconsapevole nella testa dei suoi studenti quindi tanto vale che lo faccia davvero il marchio createvi il vostro marchio stabilite la vostra palette di colori stabilite le vostre fonte il vostro disegnino studiate il vostro marchio usiamo questo ed estraiamo il tema di questa immagine perché voglio creare qualche cosa che abbia una una componente di questo genere quindi tono su tono perfetto diciamo che ho scelto la palette lavorare i colori più tenui però eccola qua ho scelto la palette questa mi piace mi piace perché vedete che c'è un andamento dal marrone più scuro fino a quello più che allora che cosa faccio dovete fare un paio di cose allora la prima è che fate uno screenshot di questa palette così screenshot di questa palette e lo conservate questo screenshot poi salva in voi vi siete registrati siete entrati nel sistema adobe quindi potete creare una library una libreria che che è un contenitore di oggetti esiste già una library per default che si chiama my library oppure avete io e posso aver creato anche delle altre comunque date un nome e la salvate quindi poi la ritrovate nella library la prossima volta che utilizzerete questa applicazione basterà qui cercare nella library le varie palette che avete creato e lui le ripropone bene poi l'ultima cosa che vi volevo mostrare qui vedete intanto ricordatevi sempre che qui avete la possibilità di copiare tutte le volte che appare questa icona e fate clic qui sopra copia il numero esadecimale quindi in pratica mentre lavorate con un'applicazione grafica potete recarvi alla vostra adobe color il vostro adobe color prendere la palette che vi interessa e poi copiate l'esadecimale semplicemente facendo clic così poi gli strumenti di accessibilità lo strumento di accessibilità è interessante perché perché stabilisce qual è il rapporto di leggibilità fra due colori quindi la leggibilità migliore buona sia quando il rapporto è 4 e mezzo a 1 avevamo un rapporto basso vedete 3 e 68 a 1 in effetti in effetti non c'è un buon contrasto guardate testo normale testo più grande quindi a 18 e poi immagini quindi grafiche sovrapposte allo sfondo allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo cambiare qualcosa qui dobbiamo cambiare per esempio la la tonalità di questo e aumentare la luminosità di quest'altro vedete che a mano a mano che agiamo su questi corsori cambia il rapporto di contrasto e naturalmente più alto rapporto di contrasto e migliore è la leggibilità della o della grafico del testo qui poi si apre ovviamente l'argomento che riguarda l'accessibilità l'inclusione eccetera eccetera va bene sono nozioni elementari sulle quali volete lavorare poi giocare anche perché è molto divertente qui inserite il colore di sfondo no il codice esadecimale dei due colori che volete confrontare quindi due colori che volete utilizzare nella vostra grafica volete abbinare questi due bei colori vediamo se è un abbinamento corretto da un punto di vista della leggibilità un po più scuro così ecco ci dice che la leggibilità è molto bassa proviamo a invertire no non funziona non funziona proprio quindi dobbiamo in qualche modo operare affinché il contrasto aumenti quindi più di così non si può fare con lo sfondo quindi dobbiamo giocare anche su questo ricordatevi cosa abbiamo detto che 4 e mezzo 1 oppure 3 a 1 a secondo che il testo sia in grassetto o meno rappresentano il punto di partenza della leggibilità di testo sovrapposto a un colore di sfondo poi salva nei librerie ci piace questo va bene salviamo salva nei librerie poi ve lo ritroverete eccetera eccetera allora che cosa faccio? prendo la palette e la incollo sulla slide questo è un metodo eh? vi insegno due poi vediamo quale è il migliore quindi la prima cosa è che ho fatto lo screenshot la cosa più semplice da fare quindi ho un'immagine e incollo l'immagine sul mio foglio poi che cosa devo fare? voglio che cominciamo dallo sfondo quindi che lo sfondo della slide abbia uno di questi colori perché voglio usare solo questo tipo di colore per scrivere inserire le grafiche e i testi allora farò così faccio un doppio clic sullo sfondo poi da qualche parte avrò ho una opzione per scegliere il colore a me appare così e ho una pompetta di sicuro avete una pompetta quindi se voglio che la slide abbia un colore piuttosto chiaro per esempio questo ecco che io con la pompetta ho selezionato avete visto? ho selezionato con la pompetta il colore e la slide è così poi abbiamo parlato della leggibilità prima quindi voglio che questo colore del testo abbia un'altra una leggibilità ma sempre all'interno di questa palette quindi scelgo la pompetta e con la pompetta seleziono il colore più scuro il marrone più scuro e quindi abbiamo una buona leggibilità qui slide va bene poi c'è questo invece che è un segno è un cerchio diciamo che all'interno di questo cerchio non so collocherò un'immagine o qualche cosa va bene potrebbe essere una grafica di sfondo per evidenziare qualcosa voglio che sia sempre all'interno di questa palette un colore ovviamente che faccia contrasto rispetto allo sfondo potrebbe essere questo quindi con la mia pompetta scelgo ed ecco che guardate io ho una slide molto gradevole bella da vedere un'altra operazione che si può fare alcune applicazioni lo permettono altre no questa no per esempio altre sì però è quella proprio di prendere il codice esa decimale qui voi avete diverse opportunità potete trovare diverse opportunità per riprodurre i numeri quei famosi numeri che avete visto che adesso io vi ripropongo qui ecco per esempio qui vedete che avete un rapporto RGB è composto da questi numerini potete inserire se avete il metodo colore RGB quindi basta copiare questi numerini oppure potete avere proprio lo spazio per inserire il codice esa decimale quindi se si usa illustrator se si usano applicazioni di grafica un po' più un po' più spinte si usa direttamente il codice esa decimale torniamo alla nostra adesso ho fatto un po' di prove torniamo alla nostra composizione inserisco una forma quadrata quindi diversa vede che sta molto male questo questo nero però lo sostituisco con un marrone o addirittura anche un marrone più chiaro volendo questo che determina ecco un contrasto di questo genere quindi ecco che poi posso far risaltare bene graficamente proprio una cosa di questo genere quindi qui ci sarà un titolo qua ci sarà un testo di spiegazione vediamo un testo di spiegazione che va molto bene anche bianco se voglio abbiamo detto che era grassetto il grassetto cioè se non è grassetto può stare a 18 punti bene se invece è grassetto può stare abbiamo detto a 14 quindi abbiamo 18 punti poi titoli fate grandi come volete chiaramente quello non è un problema perché si leggono sempre i titoli il problema è questo testo però posso anche evidenziare magari qualche parola all'interno per perché voglio una piccola variazione quindi in questo caso scelgo no voglio questo il colore del testo questo esatto scelgo magari vediamo un po' questo evidenzio questo testo sac così quindi alla fine senza utilizzare troppi colori ma semplicemente restando all'interno di una cromaticità delimitata perché abbiamo poi alla fine delle varianti di un marrone pastello possiamo creare una slide che è estremamente gradevole Alberto scusa sì dimmi ci sono dei colori proprio off limits da evitare perché proprio non vale la pena neanche dedicarci il tempo per esempio io questo colore qui vedendolo così mi piace ma non l'avrei mai pensato di mettere insieme perché è un colore pastello su una cromaticità tenue devi evitare i violi i fucsia i rossi i bluet tutti i colori molto sparati certo molto sparati eccessivamente luminosi perché troppo luminosi danno fastidio alla vista e devi rimanere su delle tinte delle tinte pastello tenui ecco allora vai sempre bene per esempio adesso sto pensando no la palette sull'azzurro poi non diventa troppo baby in che senso baby nel senso mentre questo colore è un colore diciamo elegante corretto che ti dà l'idea di una lettura di un contenuto di un certo tipo i colori che io ho scelto i miei colori sono il blu e quindi diciamo le traduzioni del blu poi non diventano invece poco adatti per un contenuto allora guarda guarda come utilizzando la palette si può darsi certo perché il blu poi ha un forte richiamo questo è più riposante certamente più riposante però prova a combinare il blu utilizzando la palette dei colori con un marrone di questo genere beige chiaro e quindi a creare questo contrasto in modo tale che non usi solo una variante di blu però poi dovrei vedere la palette chiaramente fare delle prove e vedere come sta insieme come sta pensando siccome ho visto anche altre foto del mare e anch'io ho scelto il mare in effetti la mia palette poi diventa dei toni sul blu e poi c'è il begiolino della sabbia no? sì esatto il begiolino della sabbia è buono ricercandole fra la natura forse sono quelle che alla fine sparano meno stonano meno perché la natura in qualche modo armonizza di suo certo e noi siamo abituati se nella natura hai la sabbia col blu adesso io così ho fatto al volo una paletta tendente a blu che non sarà la tua giusto per vedere che cosa succede allora come sfondo per esempio prendi questo questo ceruleo qui all'inizio e invece questo azzurro un po' più sparato alla fine guarda la differenza nella creazione di uno sfondo se io utilizzo questo no aspetta lo sfondo dov'è così allora se io utilizzo questo vedi come dà fastidio non so se arriva a voi dà fastidio è molto luminoso e forte perché è una frequenza di luminosità sono delle radiazioni di raggi quindi dà molto fastidio guarda invece che cosa faccio con quest'altro molto più riposante poi tu puoi dire mi piace non mi piace la tonalità ma sicuramente molto più riposante vediamo che cosa succede se come sfondo io utilizzo questo e invece come nel cerchio impiego magari questo si può usare si può usare ma così si è sempre un po' aggressivo cioè così perché io qui indico non lo so G per esempio il punto il punto G rispetto al punto F si ok dimensioni piccole sicuramente ma capito vedi come cambiano le cose proprio e così invece è proprio un stacco totale può avere un significato di cura di attenzione e allora che cosa farei a questo punto sì se mi piace questo colore mi piace questo vado alla palette dei colori di adobe cerco di metterli insieme e vediamo che cosa mi tira fuori di armonico usando questi due colori cioè faccio così faccio uno screenshot cioè qui io vi dico che se voi poi vi piace questa cosa qua ci perdete i pomeriggi perché è interessantissimo vediamo estrai tema ho fatto lo screenshot mi interessavano quei due colori lì quindi ecco vedi vediamo che cosa succede mi tira fuori questa palette è interessante c'è anche un bianco io la prendo e la riporto qua sì perfetto tolgo questa e adesso questa diventa la mia palette di riferimento e allora qua cominciamo a ragionare perché per esempio questo questo può diventare per esempio vediamo riempimento colore potrebbe diventare questo vediamo però il testo il testo può essere così potrebbe essere vediamo questo il bianco a dire no questo non va bene però si può anche andare insomma c'è da fare delle prove vedere un po' come si ragiona e poi abbiamo fatto al volo quindi non è proprio la migliore però il bianco può anche funzionare insomma ma non c'è molto contrasto forse questo questo lo cambierei lo cambierei però la scelta ecco così forse però questo colore è proprio fastidioso eh lo dovrei togliere perché è troppo insomma sono i ragionamenti certo che tra questa che è una palette invece scelta selezionato con cura diciamo è questo che cerchiamo un po' di tirarci fuori qualcosa c'è una differenza vedi c'è una differenza dunque abituare anche gli studenti a ragionare senza pensare di arrivare a chissà quali i risultati ma è una questione di accostamento critico al modo con il quale i contenuti ci vengono presentati e dunque è un modo per distinguere anche se mi reco in quel famoso ristorante al mare o a una discarica a vedere le pantegane ecco almeno capire queste queste distinzioni poi un'altra cosa importante riguarda ve la dico perché io avendo lavorato con Apple tanti anni ho imparato tante cose da loro sul modo di comunicare no? per esempio cioè sul modo proprio di per esempio uno è questo in centro via questo via questo e questa è una slide due parole due parole perché la slide allora adesso non so inventiamoci qualcosa non so neanche se esiste duplicazione cellulare va bene mettiamo che esiste la duplicazione cellulare eccolo qua duplicazione cellulare fine non c'è neanche il disegno di una cellula non solo non c'è la spiegazione testuale ma non c'è manco il disegno perché ma perché il linguaggio delle slide è un linguaggio sintetico non è un linguaggio narrativo non si racconta tramite slide tramite slide si sintetizza poi chi la presenta parla racconta la domanda è ma chi la presenta ha capacità di raccontare di parlare per un minuto su una slide che ha due parole se sì bene se no cambia sistema se no scrive un testo scrive un testo e lo leggerà ma senza proiettarlo poi non ho un testo ho la famosa cellula eccola qua diciamo perfetto stiamo parlando di duplicazione cellulare poniamo un testo e voilà questo è un altro slide senza nessuna descrizione senza nessuna ma neanche la raffigurazione della cellula perché? beh qui il discorso si fa complesso e tra l'altro entriamo nella seconda parte di questo incontro che riguarda proprio gli aspetti visivi delle immagini dello stile e vi propongo immediatamente un esercizio però vi anticipo questo a cosa serve una slide? una slide serve a fare in modo che attraverso una semplice minimalista rappresentazione chi osserva questa slide abbia una immagine che lo sostenga nell'ascolto della narrazione è chiaro che da questo principio se la slide fosse così è un esercizio adesso tra l'altro questi colori sono proprio piacevoli per cui ma immaginatevi una roba fucsia qua rossa l'altra parte eccetera cioè questa non è una slide cioè non è un supporto visivo non è un supporto visivo è una confusione visuale perché allora che cosa hai? hai il narratore, il presentatore che parla parla magari dice delle cose diverse rispetto a quelle che sono qua tu devi memorizzare anche un'immagine di questo genere che ti crea una confusione intanto devi ascoltare quello che parla il risultato è improponibile torniamo invece alla semplicità di prima vedete la differenza è evidente prima si interrompo di nuovo e dopo posso? prima e dopo cioè no? quindi sarebbe meglio meno sulle slide eventualmente più slide ma meno piene allora io il suggerimento che do è di buttare via powerpoint non usarlo proprio perché nessuno lo sa usare quindi? nessuno lo sa quindi scrivere scrivere proprio il testo il testo e leggerlo scrivere un testo e leggerlo basta raccontare ma se fosse un pdf si proprio raccontare raccontare io metto due allievi io faccio così adesso stanno facendo delle lezioni sul rinascimento e sia dal punto di vista storico che letterario sai un po' l'Ariosto poi c'è Leonardo i solite cose di rinascimento va bene e io non ho fatto lezioni sul rinascimento non ho spiegato nulla ho fatto vedere un piccolo documentario no un piccolo documentario di dieci minuti così giusto per introdurre alcune cose simpatico e con Barbero che ha spiegato quindi anche un linguaggio proprio non proprio alla portata ma veramente dieci minuti poi siccome siamo alle superiori qualcosa del rinascimento sanno tutti sanno tutti si è chiacchierato un po' chi diceva una cosa chi un'altra ci abbiamo ragionato un po' poi che cosa ho fatto? io non ho fatto lezioni io ho detto Mariolino e Giovanna preparano una lezione su Leonardo da Vinci va bene però non insieme ognuno prepara la sua e trova cinque elementi importanti da raccontare cinque non di più poi Marcello e Marcella lo fanno su Michelangelo va bene quindi abbiamo scelto un po' di personaggi e va bene ognuno quindi ha come compito quello di scegliere di documentarsi e di tirare fuori le cinque caratteristiche che a lui sembra o a lei sembrano quelle importanti poi che cosa abbiamo fatto? poi il giorno e ho detto che dovevano scrivere proprio senza slide senza niente non vogliamo vedere nulla dovevano proprio scrivere il testo e leggerlo semplicemente scrivo e legge quindi si sono messi alla cattedra a coppie e uno per volta ha letto il suo testo su Leonardo Vinci su Michelangelo con calma lo doveva leggere piano con calma a voce alta io mi sono seduto dalla parte come faccio in questi casi dalla parte degli studenti ascoltavo e alla fine di ogni lettura abbiamo aperto una chiacchierata sono gli elementi fondamentali sì no si poteva dire meglio una cosa meglio un'altra eccetera eccetera si è chiacchierato su questo e niente stiamo andando avanti così lezioni sul rinascimento poi verrà il momento in cui farò anch'io una lezione spiegherò delle cose certamente però che cosa stiamo imparando stiamo imparando a raccontare partendo da una selezione critica critica di informazioni per imparare a raccontare non devi mostrare nulla perché il racconto visivo è più complicato del racconto attraverso la scrittura in prima elementare impari a scrivere non impari a fare slide non impari la grafica non impari la palette dei colori non impari le leggi della cromaticità non impari mai mai non impari mai a disegnare mai nelle scuole elementari non ti insegna nessuno a disegnare ti fanno fare dei disegni poi dopo di che se c'è una maestra che sa disegnare può passarti qualcosa se c'è un corso qualcuno di esterno alle volte capita no? qualche progetto bene ma altrimenti disegno non te lo insegna proprio nessuno che cosa ti insegnano a scrivere e a calcolare quindi grammatica e matematica più o meno si conoscono tutto il resto no allora com'è possibile mettere in mano di uno studente un'applicazione grafica e dirgli raccontami attraverso la grafica che è una cosa che non hai mai fatto in vita tua mai è un'assurdità come si può pretendere che uno studente acquisisca delle abilità se queste non gli sono state insegnate e se frequento proprio una scuola il cui compito è trasferire queste abilità quindi partiamo da quello che sai fare cioè far di conto e scrivere in un italiano più o meno accettabile e ragioniamo su quello d'altra parte dobbiamo anche pensare che in un mondo all'interno che è nel quale diciamo sovrastato da immagini tutto rappresentato attraverso immagini subiamo un bombardamento tale che poi disorienta un sano racconto scritto e la sua lettura è la cosa migliore che si possa fare dopo pensiamo utilizzare powerpoint ok l'insegnante invece che vuole fare delle slide le prepari così perché l'insegnante è capace di parlare anzi a volte magari parla anche troppo quindi non mostra neanche ma adesso ne parliamo perché abbiamo proprio un esercizio da fare su questo allora guardate sulla parte sinistra la favola l'avete letta tutti quindi la posso eliminare sulla parte sinistra avete la rappresentazione di immagine e sulla parte destra avete i risultati delle vostre scelte prima di tutto dovete sapere che abbiamo quattro possibilità di rappresentare un oggetto da un punto di vista visivo che sarebbero cinque in realtà però la quinta è molto complessa ve la spiego la prima è una fotografia classica fotografia immagine fotografiche quelle che si trovano a bizzeffe che si usano eccetera eccetera poi abbiamo il disegno il disegno normalmente ha una rappresentazione non artistica precisa cioè devi distinguere gli oggetti eccetera eccetera poi abbiamo la grafica flat la grafica flat è una grafica che va molto di moda oggi ed è un tipo di grafica piatto non ci sono volumi non ci sono volumi è semplice minimalista e piatta e poi abbiamo l'icona silhouette cioè quella la classica icona normalmente è monocromatica e rappresenta proprio la silhouette come una fotografia in controluce il quinto elemento di cui non vi non ci possiamo occupare è questo ed è lo sketch note lo sketch note è questo qua vedete questo è lo sketch note o lo vedete ancora meglio qua per esempio lo sketch note che è una rappresentazione disegnata ma che è un misto tra uno schizzo una tendenza di rappresentazione artistica però è molto è assolutamente complesso da realizzare non non lo consideriamo quindi abbiamo normalmente abbiamo queste quattro possibilità anche quando cerchiamo delle immagini attraverso la rete incappiamo in una di queste tipologie allora quale immagine sceglieresti per sostenere una spiegazione sull'apicultura la maggior parte di voi dice fotografia quindi il 57% fotografia poi disegno grafica flat icona silhouette sono più o meno sullo stesso piano cosa vuol dire questo che nella vostra percezione c'è un segno distintivo molto netto tra l'immagine fotografica e tutte le altre quindi coerentemente con la scelta effettuata prima quali immagini escluderesti per sostenere una spiegazione sull'agricoltura allora si escluderebbero di più chiaramente le immagini non fotografiche quindi l'icona silhouette l'icona flat e poi vabbè il disegno dell'apicoltore perché il disegno dell'apicoltore si escluderebbe meno insieme alla fotografia perché in questo caso voi attribuite una sorta di similitudine tra l'immagine fotografica e il disegno perché questa similitudine perché sicuramente sono le due immagini più complete rispetto alle altre due tipologie giusto perfetto però vogliamo ragionare su questa vostra scelta allora voi dovete spiegare cioè sostenere una spiegazione sull'apicoltura giusto sostenete una spiegazione sull'apicoltura siete proprio sicure che la scelta migliore cada sull'immagine fotografica oppure sul disegno diciamo così la foto sembra più realistica certo mi sento più sicura con la fotografia perché parlo di qualcosa di reale di concreto certo non so se mi sono spiegata come no certo ma la fotografia proprio perché realistica è completa parla la fotografia ti fornisce un'immagine ti fornisce quella immagine dov'è il tuo ruolo di narratore di insegnante narratore se tu fornisce una fotografia cioè un dettaglio della realtà che è precisamente quello che tu dovresti raccontare allora io rientro nel 14% perché ho scelto l'icona silhouette sì ho scelto l'icona silhouette a parte perché era quella che tra i quattro mi piaceva di più sì ma poi per il discorso che stavi facendo tu non mi è assolutamente d'aiuto l'immagine questa fotografia di apicultore nella spiegazione anche se concordo con la collega che è realistica ovviamente ma non trovo che sia di nessun aiuto ai ragazzi sì ma è perché quello che dice è giusto ed è scientificamente provato e perché ma perché allora vedere va bene vedo vedo la piccola credo che faccia parte poi del mio della mia capacità di spiegare di andare nei dettagli cioè non non lo so non 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 allora sì è giusto quello che dici l'hai espresso in modo diciamo spontaneo così però c'è una teoria cognitiva dietro alle spalle su questo ed è una teoria che risale all'epoca di Vygotsky che è un grande psicopedagogo russo che aveva analizzato con grande precisione il modo con il quale si forma il pensiero astratto che cos'è il pensiero astratto è il pensiero che è capace di simbolizzare degli elementi della realtà e inserirvi in categorie più generali vi faccio un esempio adesso c'è la giornata della donna giusto l'otto marzo quando mia figlia aveva due o tre anni se non ricordo un giorno viene da me e mi dice babbo ma di chi è la festa di quale donna è la festa perché sentiva continuamente parlare della festa e la donna diceva sì ma di chi è la festa cosa vuol dire vuol dire che non aveva raggiunto un pensiero astratto una forma di concettualizzazione il suo pensiero rimaneva aderente alla realtà qui c'è tutta la questione che riguarda lo sviluppo dell'intelligenza quando si diventa intelligenti si diventa intelligenti a mano a mano che si è grado di ragionare per categorie staccate dalla realtà in che cosa consiste il compito dell'insegnante nello spiegare l'agricoltura no cioè l'apicoltura no consiste nel far diventare più intelligenti i suoi studenti anche attraverso l'argomento dell'apicoltura quindi il lavoro dell'insegnante è un lavoro di sottrazione non di addizione e neppure di moltiplicazione deve mostrare il meno possibile e raccontare di più perché questo favorisce l'astrazione e non il contrario io mi perdo nell'immagine fotografica dettagliata che parla al posto dell'insegnante blocca lo sviluppo dell'astrazione cioè lo sviluppo di un piano simbolico e concettuale e quindi non mi fa diventare intelligente perché pensate che tutte queste immagini nel mondo del marketing eccetera siano così importanti perché poi stupidiscono le persone non abbiamo bisogno di un mondo in cui le persone ragionino per vendere dei prodotti esattamente il contrario quindi più li si bombarda di immagini più li si priva della capacità di astrarre e ragionare in modo indipendente rispetto agli stimoli della realtà e questo è precisamente lo sviluppo del pensiero di un bambino il che inizialmente è legato alla sua esperienza alla realtà concreta quindi di quale festa è la donna e poi via via crescendo parla della donna senza più avere una visione concreta di una donna determinata perché ha imparato a categorizzare il concetto di donna in un insieme che poi non ha più un volto e dunque può operare anche attraverso equazioni logaritmi l'algebra tutta la ricerca scientifica e tutto il progresso dell'umanità dunque il nostro compito non è immergere i bambini e gli studenti nella realtà ma esattamente il contrario si impara solo rompendo con l'esperienza dall'esperienza in sé non si impara nulla nulla si impara dall'esperienza per poter imparare qualche cosa dall'esperienza bisogna distaccarsi dall'esperienza ed esaminarla come un oggetto indipendente dalla propria vita Elisabetta Ortu che abita in Sardegna e che ha un mare bellissimo ricco di pesci va a pescare non lo sapete ve lo dico io va a pescare tre volte al giorno va a pescare tutti i giorni ormai da diversi anni ed Elisabetta ha capito vede che ci sono dei pesci che quando pesca ci mettono due o tre minuti poi muoiono in qualche ci sono degli animali invece che entrano e escono dall'acqua in continuazione è la sua esperienza che cosa ha capito sulla base di questa esperienza Elisabetta che esistono in quell'ambiente due specie di animali chi vive solo in acqua e quando esce a un certo punto muore e chi invece è in grado di vivere sia in acqua che all'aria fantastico basta ha scoperto Elisabetta Ortu la categoria degli anfibi ha scoperto i sistemi di respirazione dei pesci e degli altri animali assolutamente no perché? perché lei va lì per pescare per capire quello che succede deve mollare la canna da pesca e indagare l'ambiente cioè lo deve studiare cioè deve distaccarsi dall'esperienza l'esperienza ci rende stupidi l'istruzione ci rende intelligenti l'esperienza ci serve per vivere diciamo mediamente come un essere medio-basso nell'ambiente e sapersela cavare in determinate circostanze ma non ci dà niente dal punto di vista dell'intelligenza ci darà scaltrezza perché non so scapperò dalla banda dei bulli attraverso il buco di una staccionata ma non mi consente di progettare una staccionata che sarà dei ragazzini dei bulli l'esperienza non fa rendere intelligente e questo è stato l'errore di Dewey il quale pensava che si potesse sostituire lo studio e l'apprendimento teorico di determinate discipline da pratiche esperienziali a lui ha scoperto che non può esistere lo studio senza esperienza questo naturalmente è corretto ma dall'esperienza non nasce la non nasce la conoscenza infatti infatti nel momento in cui Elisabetta si iscriverà all'università di pesciovendoleria non so una roba del genere ok lei capirà prima quello che deve studiare rispetto a un bambino che è cresciuto nell'officina meccanica di suo padre perché beh perché se io parlo di pesci cose eccetera lei ha una certa esperienza che può utilizzare cioè per staccarti dall'esperienza devi aver svolto un'esperienza se no come fai a rompere con l'esperienza se un'esperienza non ce l'hai ecco perché serve un laboratorio a scuola ecco perché serve fare degli esperimenti portare l'animaletto la stoffa le cose ragionare sugli oggetti perché devi poi essere in grado di staccarti da questi oggetti dunque l'equilibrio di una spiegazione significa che di volta in volta io devo scegliere quale è l'immagine più appropriata per far crescere il piano astratto dei miei studenti è chiaro che se devo spiegare tutto sulla sulla distinzione tra esseri anfibi e altri eccetera eccetera lo devo fare in un'ora a scuola è una follia è una follia perché allora io per farmi capire per far prima riempirò la mia presentazione di immagini perché avrò tanti argomenti e affondo i miei ragazzi di rovino invece meglio o meno ma meglio ma ma meglio io mi devo occupare di una cosa utilizzo la silhouette parlo di un concetto astratto loro fanno un progresso sul piano concettuale a me sembra di aver fatto una lezione piccola e invece no ho consentito loro di fare un grande passo avanti e vedrete come questo passo avanti mi ritorna nel giro di due o tre settimane io potrò affrontare degli argomenti che non avrei mai affrontato in una spiegazione complessa appunto sull'apicultura utilizzando diverse fotografie eccetera eccetera perché perché avrei un quinto della classe che ho un po' capito due terzi che non hanno capito delle cose un terzo che indietro a farmi altre avrei una classe a velocità differenziata con grossi problemi cognitivi e poi mi ritrovo in terza quarta quinta o terza media seconda media terza superiore terza elementare quello che volete voi mi trovo che non sono in grado di portare gli studenti più o meno grossomodo allo stesso livello per questo perché non ho curato il loro sviluppo concettuale cioè non ho curato lo sviluppo cognitivo sul piano dell'astrazione sono d'accordissimo con te proprio il cento per cento è un po' in controtendenza con tutte le teorie totalmente in concerto con tutte le teorie che sono sviluppate in questi ultimi dieci anni dicendo no devi fare devi fare ma certo perché le teorie no sì per questo scusa se ti interrompo ma no no ti do già la risposta no no ti do già la risposta perché perché le teorie di Jue Vygotsky Piaget eccetera erano le teorie di chi erano le teorie di studiosi sul campo molto spesso erano anche maestri insegnanti mentre le teorie degli ultimi dieci quindici anni sono teorie di baroni universitari che che soprattutto anglosassoni eccetera che pontificano pontificano spesso sulla base di strumenti tecnologici che hanno a disposizione che incensano cioè voglio dire non c'è una reale ricerca pedagogica scientifica oggi in questo campo non c'è per non parlare dei nostri dei nostri cosiddetti pedagoghi italiani il cui passatempo principale è tradurre quello che viene da oltreoceano per primo in modo da poter raccontare qualche cosa di nuovo il conflitto e la discussione che Piaget e Vygotsky ebbero perché avevano due visioni radicalmente diverse della pedagogia è qualche cosa che ha scritto la ricerca scientifica dove Vygotsky aveva ragione per certe cose Piaget per altre e la loro discussione dovrebbe essere studiata in tutte le università ma probabilmente voi non sapete neanche l'esistenza di questa cosa per dire perché oggi si vive tutto sulla base del consumo tu devi scrivere libri devi scrivere libri di pedagogia devi andare avanti nella tua carriera universitaria devi essere mediatico devi produrre devi mettere insieme devi trovare nuove teorie devi elaborare devi vendere devi fare impresa devi fare impresa devi fare impresa devi vendere devi vendere ma col fatto che il ministro eh Vygotsky passava le sue giornate all'istituto di psicologia di Mosca a ricevere decine centinaia di studenti ogni volta Piaget faceva lo stesso Zurigo cioè questi mica andavano in giro a scrivere nei post nei social o si preoccupavano della loro fama loro si preoccupavano di capire qualche cosa qui oggi ci si occupa di curare la propria reputazione e la propria fama e volevo dire il fatto che insomma da parte del ministero c'è questa tendenza ad accorciare il percorso scolastico e far entrare gli ITS a tutto spiano soprattutto nel commerciale in modo tale che è tutta pratica tutta pratica perché poi vengono i dirigenti aziendali a fare lezioni che parleranno è chiaro che la tendenza è questa è la tendenza ed è una tendenza generalizzata anche da un punto di vista culturale dove vedete la vostra risposta è stata la fotografia legittima è una risposta legittima perché è legittima? beh perché ovviamente è quello che la società trasmette da un punto di vista dei messaggi e culturale alle persone però se noi ragioniamo guardate vi faccio questo esempio Barth entra nel saloon dai 1860 tombstone western va bene Barth entra nel saloon spalanca le porte guarda il barman dritto negli occhi sul tavolo e il tavolo a destra si ferma la partita a poker si ferma c'è un'aria di tensione si sentono gli speroni di Barth camminare fino al bancone Barth si appoggia e ordina un whisky boh io vi racconto questa scena chi è Barth? come è fatto il saloon? e il whisky? voi non vedete nulla io ve l'ho raccontata che cosa sto facendo? sto stimolando la vostra immaginazione perché le mie parole sono dei significanti adesso io vi mostro questa sequenza in un film bella c'è la tensione fantastico la musichetta sotto tipico film western poi succederà qualche cosa vi emozionate benissimo ma il vostro cervello ragiona? no perché l'immagine l'immagine racconta il vostro posto l'immagine blocca l'immaginazione esatto perché l'immagine ti dice che l'apicoltore è questo queste sono le arnie ed è così queste immagini invece ti simbolizza una situazione che tu devi riempire questo non vuol dire che io ho fatto storytelling cinematografico e tutto quindi ci mancherebbe altro che non vuol dire che non bisogna andare al cinema voglio dire che sono cose diverse sono cose differenti quindi a volte a volte mostriamo anche dei film in classe delle narrazioni visive certamente però dobbiamo sapere che se vogliamo far fare dei passi avanti ai nostri studenti scrivere su un quaderno e leggere e rappresentare il meno possibile poi facciamo un gioco abbiamo lavorato sull'apicultura tutti hanno detto allora abbiamo scritto abbiamo fatto eccetera eccetera adesso la sfida è chi trova la fotografia migliore che rappresenti tutto quello che abbiamo detto allora sì allora diventa interessante perché a quel punto vediamo se riusciamo a reificare nella realtà quello che abbiamo appreso da un punto di vista astratto ma questa è la principale lezione dello storytelling perché lo storytelling è importante a scuola cioè perché è importante raccontare perché raccontare non è spiegare perché se io spiego tu devi aver compreso una determinata cosa e va bene ma se io racconto tu hai il diritto anche di non avere esattamente capito ma porti avanti la tua immaginazione fino al punto in cui poi devi sapere cos'è un'armia chiaramente se no non arriviamo da nessuna parte e scusa se ti interrompo qui c'entra molto la passione dell'insegnante nel senso che se l'insegnante ha dentro veramente i contenuti che deve esternare è chiaro che li racconta bene sì altrimenti no però io ho conosciuto decine di migliaia di insegnanti ho fatto qualcosa come sette ottocento corsi di formazione non lo so ho fatto veramente delle cose che cosa qual è la mia opinione la mia opinione è che l'insegnante ha una passione cioè quello che lui ha studiato è quello che un insegnante che ha studiato biologia è perché gli piace la biologia uno che ha studiato letteratura è perché gli piace la letteratura poi magari c'è l'insegnante di sostegno che non è esattamente quello che avrebbe voluto fare perché voleva entrare a scuola poniamo no possono capitare dei casi però fondamentalmente chi ha studiato una certa disciplina una certa cosa è perché io non avrei mai studiato matematica se non mi fosse piaciuto e viceversa no? bene qual è il problema? il problema è che spesso l'insegnante non si rende conto perché nessuno glielo dice nessuno riflette su queste cose quanto è importante il suo ruolo per spingere avanti proprio sul piano cognitivo i suoi studenti sembra che insegnare si debba ridurre a una trasmissione di conoscenze che deve essere cioè l'arnia devo sapere cos'è come funziona e tutto il resto però oggi come oggi specialmente dai chiunque può trovare le informazioni che gli servono su arnia api miele come viene fatto eccetera cioè è l'insegnante che le deve spiegare l'insegnante dovrebbe raccontare delle storie su questo dovrebbe dovrebbe narrare raccontare poi la singola informazione spicciola su che cos'è un'arnia come è composta come si estrae questa cosa che non so come si chiami no il miele eccetera eccetera queste sono cose che l'insegnante aiuta a trovare nei giusti canali cioè non dice andate su internet cercate no dice guardate qui guardate là trovate le cose giuste guardate piccolo sapere guardate questa cosetta venite in classe discutiamo delle definizioni che avete trovato eccetera eccetera ma l'insegnante deve essere deve poter raccontare delle storie e per raccontare delle storie non deve mostrare tutto deve fare in modo che i ragazzini possano astrarre quindi astrarre molto astrarre un po astrarre un pochino astrarre per niente cioè dipende no dal ogni volta deve cercare un equilibrio un po come i colori che abbiamo visto prima non è che non deve mai mostrare delle fotografie o deve sempre utilizzare l'icona no l'insegnante capisce il punto in cui è la classe se è il momento di mostrare qualche cosa oppure se è il momento di lavorare su ecco questo lo deve capire lui no fa parte del gioco diciamo così quello che deve però sapere è che esistono diversi linguaggi ogni linguaggio ha la sua specificità e interferisce con l'apprendimento secondo meccaniche definite e che scegliere un'immagine al posto di un'altra non è la stessa cosa mi è stravortito poi vediamo un po' qua quale immagine escluderesti per sostenere una spiegazione no sostiene una spiegazione qua ecco vediamo qua a tuo parere quale immagine racconta di più ai fini di una spiegazione sull'apicultura quindi questo quale immagine racconta di più ai fini di una spiegazione voi dite la fotografia è giusto è giusto perché se io voglio avere un'immagine che mi racconti per sostenere la mia spiegazione uso una fotografia non uso la silhouette perché perché in questo caso io voglio sostenere una spiegazione attraverso un'immagine che racconti perché magari non so proietto questa immagine e chiedo ai ragazzi di spiegare cosa sta succedendo per dire allora qui perché mi interessa questa fotografia perché voglio curare i dettagli che cosa ha in mano perché c'è questo cappello come mai anche un bambino in mezzo alle api non è pericoloso allora come ci si veste come ci si protegge cosa sono perché ci sono queste le arnie sono alzate sul terreno allora io attraverso una serie di dettagli faccio ragionare i miei studenti cosa che non potrei fare qui cosa che non potrei fare qui e qui solo parzialmente un po' sì ma parzialmente dipende sempre dagli scopi che voglio ottenere ma il fine ultimo è far diventare più intelligenti i miei studenti e l'intelligenza si misura non attraverso i quozienti intelligenza che sono nati nell'esercito americano per dimostrare l'inferiorità dei neri rispetto ai bianchi non so se lo sapete ma l'origine dei cui dei testi di cui è questa ma si misura l'intelligenza attraverso la capacità di operare in modo astratto per simboli per categorie e quindi individuare delle tendenze magari un domani un vostro allievo lavorerà in una società finanziaria il suo compito farà carriera avrà successo se riuscirà a individuare le tendenze e quindi se riuscirà a staccarsi dal contingente e dire no guarda i tuoi soldi della pensione ti conviene investirli qui perché questo è il trend secondo me succederà questo questo va da qui non è questione di immaginazione è questione di mescolare l'immaginazione a dei ragionamenti astratti a individuare dei dettagli a portare avanti un discorso eccetera eccetera molto interessante quello che dici Alberto soprattutto per chi lavora nella scuola media che ha una situazione di età in cui c'è il passaggio o no sì c'è proprio il passaggio al pensiero simbolico è proprio lì è proprio lì dai 12 e 16 anni certo sì e mi stai colliando in una giornata un po' particolare perché ho corretto le verifiche di chiamiamole di algebra di geometria analitica eccetera e e mi sono un po' disolata sono un po' sì perché oggi i ragazzi ma voi guardate oggi i ragazzi vengono tirati giù vengono sempre tirati più giù in una realtà sempre in una realtà sempre più concreta sempre più 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 e qui cioè io nel senso io probabilmente ho sbagliato a questi punti perché sono in terza e probabilmente credevo di aver fatto un gran lavoro e invece probabilmente non l'ho fatto se questi sono i risultati no però mi trovo per esempio oggi ho mostrato la paletta dei colori ai ragazzini di prima che hai messo tu no che gli raccontavo ah bello che sto facendo del fatto di mettersi sempre in gioco dell'umiltà dell'imparare e del fatto di presentare le cose belle la bellezza me l'hai insegnata tu nella scuola no e quindi mostravo loro siccome mi stanno mandando dei materiali le dicevo vedete ragiono così perché questo io imparo da questa persona già sarei arrivata ma c'è sempre chi ne sa più di me ed è importante no quindi quello di sapersi anche dire ascoltiamo e impariamo e un ragazzino siccome avevo fatto notare ad uno di questi che aveva scritto la risorsa acqua su uno sfondo verde e gli avevo detto ma perché è verde e l'uno mi ha detto ma verde e l'altro mi ha detto ma lei mi ha fatto vedere e nella grafica quella della psicologia dei colori dice la natura è verde l'acqua è verde perché lo sta criticando è certo bella bella questa cosa sì dai intelligente e allora sì è un ragazzino vispo no allora gli ho detto va Eloi e si chiama Eloi apriti nel senso che è vero quando io penso alla natura la dico green no tutto ciò per colore ecologico io gli ho dato questa connotazione poi se penso all'acqua non la penso verde il giorno prima avevamo parlato di anzi se è verde è paludosa magari abbiamo parlato di inquinamento dell'acqua e proprio quello stesso ragazzo che aveva fatto lo sfondo verde mi aveva detto l'acqua verde che schifo contaminata eccetera e allora si ragionava e e perciò ci si prova no ma al tempo stesso certo c'è questa difficoltà così come ragionare i numeri usiamo le lettere per loro è una tragedia devi andare sul numero certo eh sì perché guarda il piano della strazione è bloc se tu pensi che un ragazzino sta su tiktok o su instagram magari ore e che cosa sono quella è la riproduzione continua di frammenti di realtà continua e dov'è l'immaginario dov'è l'astrazione dov'è la traduzione io devo tradurre questa immagine se hai una silhouette in qualche cosa qui non ho niente da tradurre qui analizzo qui io sono Darwin che cerca che cerca la storia dell'evoluzione naturale perché devo analizzare qui invece io devo tradurre immaginare pensare qui applico un pensiero analitico qui applico invece anche un'intuizione un pensiero astratto sono modi differenti oggi più che prima dell'avvento dei canali sociali che già si parlava dell'invasione di immagini io mi ricordo già a fine anni 90 prima anni 2000 già in diversi parlavano di un'eccessiva manipolazione della comunicazione attraverso le immagini oggi oggi veramente le persone vengono proprio tirate giù in un mondo estremamente concreto iper realistico fatto di frammenti oltretutto privo di una coerenza nell'impossibilità di avere una visione globale legando il soggetto a un territorio limitato contingente che blocca il suo sviluppo cognitivo lo rende più complicato il problema credo per un insegnante è che comprende esattamente e condividerà senza dubbio quello che dici e siamo in tanti l'unico problema è che poi ti scontri con quello che è la quotidianità e io per esempio mi trovo veramente adesso senza armi in qualche modo perché io come faccio a riuscire non dico a convincerli però a dargli l'alternativa se sono così tanto bombardati da tutto il resto e io sono forse la rompiballe della situazione non sono da sola ma dico certo no però intanto se sei senza armi devi prendere la cittadinanza americana perché da cittadina americana te ne procuri finché vuoi quindi questa prima soluzione tutti gli insegnanti andate pure a New York a Washington spassate e lì torni armatissima no l'insegnante non può fare niente perché questa è una questione sociale che è più grande di ciascuno di noi e di tutta la scuola messa insieme l'unico consiglio che io do è di riflettere su queste su queste cose e curare curare di più il particolare il dettaglio ritornare non aver paura di ritornare indietro di svolgere magari meno del programma ma di fare in modo che questo sviluppo sia più consolidato avresti voglia di dedicarti un po' di tempo per esempio a me piacerebbe risentirti e ricondividere anche un po' insieme discutere un po' insieme di questa cosa perché è proprio un passaggio fondamentale va bene farò però in programma di fare una stagione di webinar gratuito possiamo fare uno su questi temi certo secondo me sarebbe utile a tanti nel senso che ci fai riflettere perché in effetti anche noi siamo come parlavi di We come diavolo si chiama siamo bombardati soprattutto gli insegnanti di scienze di matematica siamo bombardati da questa modalità di visione che in parte funziona secondo me fa parte del noi facciamo materie di tipo sperimentale ma dobbiamo avere anche l'altra visione perché se no siamo monolaterali ne vediamo un pezzo e perdiamo forse l'occasione di offrire l'altro pezzo quindi sarebbe importante secondo me avere assolutamente certo sì ma poi è piacevole è un piacere sono argomenti cui mi occupo molto mi interessano c'era Cinzia che aveva una mano alzata Cinzia Razzi sì eccomi eccomi allora innanzitutto totale solidarietà alla collega si vede che oggi è la giornata perché mi trovo nella stessa identica situazione e mentre ti ascoltavo quando hai fatto il discorso delle immagini cioè mi è arrivato tipo un pugno in faccia perché ho pensato forse è lì che proprio ho cannato di brutto perché troppo troppo le cose troppo pronte fatto troppo spiegato capito cioè e oggi mi sono trovata nelle condizioni della collega e mi sono detta ma come mai poi con una con una seconda con la quale ero convinta di aver gettato le basi mi sembrava e poi mi sono trovata davanti a degli iscritti cioè inqualificabili anche con persone che normalmente lavorano allora questa cosa qua mi è arrivata dritta ecco troppe immagini troppe spiegazioni i video e i powerpoint ti prepara le schede troppo 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 voglio tornare una sana semplicità grazie a tutti Grazie a tutti.